Ciao ragazzi, come state? Allora, sto bevendo un vino bianco, guardate che bel colore, dal colore già si capisce che potrebbe essere un vino bianco un po' più impegnativo rispetto ad altri, però solo una considerazione, sei in Romagna, con questo vino sei in Romagna, l'azienda è La Pistona e il vino si chiama Sofi 2022, bianco modigliana. Allora, siamo di fronte a un DOC e siamo di fronte alla zona di modigliana, che è una zona importante, non solo per i rossi, dopo vi parlerò anche di un rosso, ma anche per i bianchi, terreni particolarmente sabbiosi, situazione microclimatica molto interessante, molto particolare, livello sul mare una media di 300 metri sul livello del mare con dei picchi di 500, comunque sia, questi terreni sabbiosi trasmettono poi una serie di sensazioni, diciamo di mineralità che si possono percepire sia al naso che al palato. I vini di modigliana si contraddistinguono per questa innata eleganza, per questa innata sottigliezza, sia nei bianchi che nei rossi. Quindi, quindi, non ti aspettare un vino bianco slavato, non ti aspettare, che ne so, un vino bianco di facile lettura, no? Guarda il colore. Ecco, questo è un vino bianco che di solito amano anche coloro i quali di solito bevono esclusivamente i vini rossi, quindi per l'estate magari hai trovato una soluzione. Ed è anche amato da coloro i quali di solito bevono i vini macerati, no? Perché ci sono dei ricordi, ma posso dire molto meglio di molti macerati che ho sentito, soprattutto per l'esecuzione. Il palato è estremamente pulito, una piacevole sensazione di frutta appena candita, note di fiori gialli e anche questo frutto maturo, estremamente pulito il naso. È un uvaggio tra chardonnay e trebbiano. Questa è una bottiglia che puoi abbinare veramente a tante situazioni della tavola. conserva una bella freschezza acida, importante ma gentile. Finale che ritorna ancora di questo frutto un po' sopito, maturo, fiori gialli. Questo lo abbinate anche alle carni bianche, pescato, pescato anche al forno, griglie, sempre di pesce, oppure carni bianche, anche alla griglia, pollo alla griglia per intenderci, no? Ti fai il barbecue, mentre ti fai il barbecue, mangi la carne, ti bevi questo. È un vino da abbinare anche a dei formaggi semistagionati o dei salumi importati. Io continuo a riprendere, perché è in continua evoluzione. È in continua evoluzione. Non lo bevete questo a 10 gradi, questo lo devi bere a 12, barra 13. Bevi 12-13 e iniziano a vivere fuori anche delle sensazioni aggrumate molto molto piacevoli. Una bottiglia che costa? Quanto costa? 13 euro. Guardavo perché ce l'ho a scaffale. 13 euro? Però ecco, note di corteccia che stanno venendo fuori e poi erbe aromatiche, la macchia mediterranea. Quando lo assaggerai al palato, noterai proprio la sapidità, che è una caratteristica della zona. Più lo tieni lì, no? Man mano che acquista anche un grado in più di temperatura, ti dà un'ulteriore sfumatura. Quindi non è un vino per tutti. Potrebbe essere un vino didattico per coloro i quali vogliono crescere e cominciare a percepire sfumature diverse. Adesso sta venendo fuori una nota balsamica. Eh ragazzi, qui ce n'è. Allora, con certi vini, infatti molti di voi a volte mi scrivono. Ah, apro, bevo. No, non devi aprire e bere. Apri, versi nel bicchiere e poi cerca, a volte con questi vini, versate una quantità così minima. Perché non dovete trangugiare, dovete assaggiare prima, capire. Perché non ha senso bere se non capite quello che bevete. Note speziate, leggerissime, bello, un bel vino. Note di cereali, che stavano, no, un bel vino. Questo è veramente un bel vino. Beh, fa parte delle mie selezioni. Ho preso un lotto particolare di questo vino, che è quello che mi soddisfa di più, proprio per quelle sottigliezze. Poi, un'acidità freschezza, c'è ancora piacevole, appena dissitante, appena grumata. Bel vino. Ciao ragazzi, bottiglina da 13 euro, ma ti rendi conto che non hai bisogno di spendere tutti quei soldi per bere e bevi bene anche con 10, 12, 13 euro? Basta avere i lotti giusti. Ciao ragazzi.